Ciao a tutti, allora benvenuti in questo video nel quale vi farò vedere un po' di shopping mix c'è un po' di tutto, abbigliamento, scarpe, cosine per la casa e un po' di make up iniziamo subito parto al volo con le scarpe allora sono stata da Zara e in pratica ho iniziato come già vi ho detto nello scorso video haul insomma nell'ultimo video sui saldi, era rush finale saldi ma ci avrei dovuto mettere un punto interrogativo e ve lo lascio qua avevo appunto già imbroccato quella, ho imboccato comunque avevo preso quella strada praticamente del voglio vestirmi primaverile e quindi ho visto sti sandali e me li sono già immaginati con dei look molto più primaverili e questo color tabacco, cioè niente, è entrato subito nelle mie grazie ancora agli anni 70, guardate che cosa ho rispolverato dai miei cimeli storici di quando era andato nell'altra tornata verso gli anni 2000 e qualcosa inizi degli anni 2000 era andato agli anni 70 questa è tipo di Zara di Bershka rispolverata e niente, quindi tacco grosso li stavo vedendo assieme perché ho detto, carini, magari si può provare tacco grosso che appunto andrà ancora tutta la primavera, l'estate tranquillamente un plateau comodissimo che rende queste scarpe praticamente basse e quindi me le sono portate a casa perché ormai i saldi da Zara cioè sono proprio ai minimi termini, c'è poca roba ma quella che c'è costa niente costavano 60 euro e le ho pagate 20 euro, quindi devo dire veramente carine poi super comode, le ho provate ed ero lì per dire se sono comode le prendo, se non sono comode vediamo invece sono stra mega comode poi per la questione appunto ormai ho imbroccato il primaverile vi faccio vedere due cose che io tranquillamente butto dietro il sacchetto tranquillamente metterei con le suddette scarpe con i suddetti sandali ovviamente già ma che ve lo dico a fare nel momento in cui si parla di Silvia e si parla di primavera si parla di righe di marinaro perché niente, sono molto originale che poi è quel tema che rispolverano sempre i giornali tipo Glamour, Vanity Fair, sapete? cioè voi lo aprite quest'anno andrà le novità di stagione bianco, blu, rosso cioè dico ma dove sta l'originale marinaro le solite robe comunque questa è ovviamente c'è questi fili qua per tenere su nelle grucce vabbè che taglierò ovviamente la magliettina è questa qua è un amore perché ha questo risvoltino guardate che carino io gli darò un punto perché sennò così risvoltato non rimane vedete si finisce per rimanere solo sopra solo sotto e al centro rimane così quindi mi sa che al centro darò un punto in modo che rimanga bella risvoltata così comunque una magliettina ampia come vedete proprio in stile marinaro tagliata tonda di sotto anzi si va anche leggermente a svasare vedete dietro è così con una cucitura centrale molto carina ed è in questo tessuto vedete eccolo qua così lo vedete bene che la rende primaverile ma non proprio estiva perché d'estate già sì la sera va bene ma durante il giorno un tessuto del genere quando c'è quel caldo allucinante non la si regge pantalone che è nel più classico dei classici colori della primavera che è il blu per me per me la primavera è blu rossa e bianca non so per voi è qualche fiore ma blu rossa bianca moltissimo è anche un po' di fiorato comunque solito pantalone così largo bello marinaro quasi una gonna pantalone che purtroppo vedete alle pence ma purtroppo questa veniva prodotta nella taglia più piccola come vedete nella taglia S per cui l'ho presa ma a me sta grande perché la taglia S mi sta grande ho bisogno di un XS però gli farò fare tipo una ripresina qua e magari qui al fianco mi sta perché comunque non è a vita alta è un po' posato proprio sul fianchetto appena inizia il fianco questo pantalone si posa e me l'ho ovviamente l'ho preso per fare completo cioè mi ci vedo proprio poi ultima cosa ah e non vi ho detto il prezzo del pantalone costava 26 l'ho pagato 10 loro dicono 25 95 9 99 26 10 poi figata questo già era fuori dai miei mood primavera cioè perché dai miei mood appunto che voglio la primavera però ragazze l'ho portato in casa ho detto se l'hanno scontato ancora 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 lo compro se no lo lascio e era apprezzato 19 ho detto ma magari 15 dai l'hanno scontato ancora costava 60 invece lo porto in cassa ragazzuole e costava 10 euro 9,99 quindi da 60 euro che costava a 9,99 non ho potuto fare a meno di prenderlo ora non ci azzecca un niente con questo vestitino però io l'ho messo con sotto un cardigan ecco l'ho messo con questo cardigan sotto vedete adesso non si vedrà nulla aspettate che ve lo faccio capire ecco l'ho messo con questo cardigan vedete pesantissimo che ha addirittura dentro il pellicciotto così è questo cappuccio quindi questo qua eccolo qua vedete con la manica con la tasca qua che è un cardigan pesantissimo simile cappottino e sopra questo che è appunto ha la manica così vedete è tipo un pomponcio tra virgolette perché è semplicemente un rettangolo di stoffa aperto davanti e con i buchi per le maniche cioè poi alla fine questo è vedete è bellissimo addosso vedete vedete è in questa lana bucle vedete qua la manica come tagliata senza bottoni senza niente quindi di quelli caldosi che voi potete proprio fare così mi piace moltissimo il connubio di colori panna beige e questo marrone un po' più così più intenso mi è piaciuta molto l'abbinata appunto con quel cardigan questo qua sopra e poi lo sto usando con la mia traccollina di furla la vedete che è ancora lì eccola qua con questa traccollina con la catenina dorata così un po' scivolato un po' stile fashion blogger che lascia sempre cascare un po' tutto di lato mi sono sentita affidissima ero proprio felice quindi 9 euro si si poteva fare perché ripeto ne costava 60 59 99 quindi ho detto va bene bella questa inquadratura la tengo la tengo così un po' distante si vede la maglia ok poi 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 sono stata da tiger poi arriviamo agli acquisti beauty allora da tiger cosa ho preso allora da tiger ho preso delle spugnette sapete che sono in modalità uso la spugnetta per pulire i pennelli tra una pennellata e l'altra sugli occhi che poi adesso sono proprio in questa modalità vedete molto nude bellissimo questo rosetto vi devo raccontare un po' di cosa già a febbraio ho già un sacco di make up da raccontare comunque ho comprato queste spugnette qua che appunto sono vedete in varie colorazioni un po' ruvidure così se non sapete come le uso guardatevi le sei d'ore in mani mie perché ho trovato un metodo ho trovato ho scopiazzato dalle americane in maniera economica un metodo per pulire i pennelli tra un trucco e l'acee tra un uso di un colore e un altro cioè non la pulizia settimana la pulizia è quella che facciamo mentre ci trucchiamo quindi questo è poi originalità portami via ho preso questo ma effettivamente le uso tantissimo le tazze poi noi abbiamo come vedete questa scala porta ad un soppalco dove appunto c'è il letto quindi praticamente tutte le tisane quando me le vado a bere al letto devo fare questa scala quindi mi serve qualcosa che col tappo perché se no rovescio tutto questa effettivamente ne ho già un'altra col tappo altre due una era di l'avevo presa in un negozietto proprio da caffè l'altra è un po' più ampia però spesso appunto la beviamo insieme quindi di quelle larghe da tisana ne avevo una sola col tappo quindi questa la userò io e l'altra rosa la darò a Pablo quindi da Tiger questa qua che appunto originalità portami via e poi ragazzi ho trovato dei calzini con i glitter li avevo già presi azzurrini mi pare ma non so dove li ho messi comunque una specie di verdino azzurrino uguale a queste ma sul verdino azzurrino e niente quindi sono quelle disegnate forse così tipo queste e quindi ho voluto prendere anche queste perché adesso arriva la primavera e niente già mi piacciono i calzini mi piacciono il lurex rosini così molto primavera li ho presi poi cosa ho preso ho preso il portagioie che finalmente ho trovato ragazzi che figura di M compro questo portagioie arrivo alla cassa saluto mi giro e pam mi cade per terra e se ne va in mille pezze sono rimasta così e il ragazzo di Tiger mi guarda e mi fa e adesso e io la guardo e dico e adesso sono una cretina l'ho rotto e pazienza era peraltro mi pare l'ultimo e la ragazza mi fa no no ce n'è un altro ce n'è un altro insomma morale devo essere sembrata così cretina che me l'hanno impacchettato me l'hanno dato non me l'hanno fatto pagare anche se loro non avevano nessuna colpa perché era impacchettato bene nella bustina nel sacchettino tutto quanto l'ho fatto cadere io comunque vabbè me l'hanno ridato è di questo bellissimo mi sa molto di anni 50 perché vedete che dentro brava come graffiare un orologio vedete che allora dentro intanto ci ho messo i miei orologi ma dentro di questo bel color così verde latte menta che fa molto 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 anni 50 lo cercavo da tempo perché lo volevo abbinare aspettate che qua faccio i danni seri alla coronciina vedete che adesso ci sono tutti i miei anelli però adesso per capirci eccola qua era questo piattino che vendevano con questa corona attaccata non è posata è proprio attaccata che serve appunto come portanelli che io uso moltissimo infatti adesso mi cascheranno tutti dentro vabbè e infatti ci sono i miei anelli e ovviamente faceva molto pendon e niente un po' vintage questo look però insomma mi piaceva tanto 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 quindi li ho presi entrambi questa c'è di nuovo peraltro e invece questa ho visto che non la trovavo mai ma loro fanno girare le cose perché io la corona l'avevo presa tanti tanti mesi fa adesso è ritornata poi sono stata da scarpe scarpe che non so se in tutti i punti vendita ma in parecchi punti vendita ah no da tiger ho preso anche queste che ovviamente le ho prese solo e soltanto sono delle caramelline vedete di menta a forma di stellina non si vedrà niente perché sono bianche vabbè comunque sono delle caramelline di menta a forma di stellina ma io l'ho preso per il portacaramelle perché io le caramelle le tengo dentro questo qua di regola che però mi si è rotto vedete il tappo cioè si è proprio rotto non ha più l'apertura così quindi niente questo lo butterò via e mi sono presa questo perché lo volevo tenere appunto perché le caramelle mi si rompono i pacchetti no di carta mi si spaccano dentro la borsa e ho caramelle dovunque quindi ho preso quelle carinissime e niente eravamo arrivati al punto ecco che sono stata da scarpe scarpe non so se tutti gli scarpe scarpe ma questo ce l'aveva hanno gli stand essence e catrice in realtà sono stata lì proprio mirata perché volevo ritrovare il mio amatissimo catrice velvet matte andiamo se riesco a farvelo vedere eccolo qua catrice velvet matte che è il mio ombretto preferito color panna che come vedete ha proprio la conca il quasi buco contate che nasce tondo e che è quello che io uso nell'arcata sopraccigliarcelo anche oggi ce l'ho sempre ce l'ho sempre tutti i giorni every time ormai lanciata con l'inglese e non l'ho trovato non esiste più e non c'erano neanche i cosiddetti quelli famosi cestoni essence catrice dove mettono tutto che so un euro così niente ragazzi se lo vedete me lo segnalate a milano mi dite dove lo posso trovare se c'è ancora perché non non c'era più questa ma secondo me non c'era già più da settembre ma io non me ne sono accorta perché ho i catrice lontanissimo da casa e quindi non mi ero accorta che era andato diciamo fuori produzione e non ne ho preso un secondo comunque non c'è quindi mi sono praticamente rassegnata non c'era e non l'ho comprato e da catrice non ho preso nient'altro anche perché loro mi avevano inviato un sacco di roba e ancora la devo provare in gran parte perché ho tante cose da provare e pian piano ve le farò vedere quindi molte molte cose dell'espositore le ho e no voglio prendere il base coat no il top coat quello per le unghie appunto che ho sentito dire essere ottimo ma come vi ho fatto nel video smalti che vi lascio qua smalti basi eccetera vi ho parlato un po' di tutto ne ho due in uso e le voglio terminare prima di comprarne un'altra perché sennò veramente non voglio accumulare le cose come facevo prima almeno per queste cose di uso diciamo basico per me che non sono quelle cose per me super accattivanti come ombretti rossetti per quali non resisto allora lì esce un colore nuovo tipo magari lo voglio comprare però non vado a prendere le cose che mi piacciono meno che mi entusiasmano meno non le vado a prendere in tanti tipi tipo matite nere mascara eyeliner fondotinta ciprie vado a prendere ciò che mi serve cerco di portarle un po' a termine perché non vado pazza per questi prodotti per cui ho preso due rossetti ovviamente anzi ho preso un rossetto l'altro l'ho preso da Wet n Wild come mai Wet n Wild direte voi comunque iniziamo da Essence che era lo stand a fianco a Catrice come vedete sono entrata un po' in questa fissa nude che per me è qualcosa di perché nude cioè io non ho mai usato il nude però qualche volta se carico un po' più gli occhi non è il caso oggi che sono tutta neutral mi piace mi piace mettere appunto il mi piace mettere il nude e siccome sentivo parlare un gran bene di questa linea di rossetti che non so nemmeno come si chiami comunque questi qua di Essence che hanno questa confezione che riporterebbe esternamente il colore interno del rossetto e che sono tutti appunto a tonalità nude ho preso il numero 05 cool nude che è appunto questo colore che mi è sembrato veramente bello ne volevo prendere anche un altro ma mi sono sembrati molto simili questo mi piace molto è cremoso ed è lucido non sarà lucidissimo però non è matte ecco olè guardate quanto è bello l'ho sentito promuovere da qualcuno forse da Giulia Giulia Covan non ne sono sicura comunque costa veramente un'inezia sapete che Essence costa niente e l'ho comprato poi sempre di Essence ho preso questa che è troppo carina I Love Makeup perché l'ho presa perché si abbina con l'outfit di prima neanche lo dovrei dire però ho detto le righe le righe il cuore quanta primavera il fucsia vabbè poi invece ho preso in uno stand che c'era a fianco ma non so è Prendimi Makeup un po' porno sto Makeup Prendimi Makeup lo apriamo insieme questo delizioso cuoricino tempera matite con i due buchini uno grosso e uno più piccolo e con appunto dentro il vano porta porta robe temperate carino nero così da tenere qua sul ne ho uno di Kiko ma sta battendo i suoi ultimi colpi 1,50 l'ho pagato 1,50 poi finiamo con il rossetto Wet n Wild questo è un azzardo ragazzi è sempre presa da questa mania dei nude ho voluto provare un rossetto che ho sentito perché avevo visto un po' girando per la rete che molti ne decantavano le qualità di simil dupe dello snob di MAC lo snob di MAC l'ho visto sempre addosso a delle ragazze che secondo me hanno un diverso sottotono dal mio diversi colori per esempio mi pare che lo usi tanto j'adore le make up Gabriella è però giustamente Gabriella ha dei diversi colori dai miei io sono olivastra quindi parrebbe sulla carta essere un colore che a me sta di merda e quindi non è che mi sono spesa quei 20 euro da MAC per il rossetto ho detto vabbè proviamo quello che dicono essere il suo dupe ed è lui si chiama esattamente sto diventando mezzo mezzo cecata will you be with me e il numero è 503 c empoli 503 catania e niente il colore è questo eccolo qua lo vedete bene adesso ve lo swatcho qua e poi vi dico ce la farò ecco lui qua allora ragazzi a me sto colore sta malissimo però l'ho provato veramente struccata l'ho preso di mattina sono andata a portare la macchina del meccanico mi sono fermata la upim l'ho visto l'ho trovato appunto nell'espositorio ho detto adesso lo compro costa 1,99 se proprio mi sta male lo regalerò a un'amica però effettivamente l'ho provato che ero struccata senza neanche il copriocchiaie madò mi sbatteva cioè ero un mostro sono diventata un mostro 2 la vendetta ancora più brutta cioè mi sono guardata allo specchio e ho detto cavoli ma quanto sei brutta cioè ero troppo brutta però vabbè lo proverò con calma magari con un make up adatto perché il colore in sé è bello vero? è lucido ma è molto meno lucido di quello essence vi farò sapere ragazzi saprete nel make up di febbraio qua intanto vi cascano i pezzi poi ho preso una roba tipo porno no scherzo non si dovrebbe mai far vedere l'intimo qua su youtube sembra che una faccia sacrilegio ma io ve lo faccio vedere lo stesso ho preso questo bellissimo baby doll che costava 12 euro da chiavi e invece c'erano gli sconti del 70% e tipo l'ho pagato 3 euro e 60 e guardate che carino cioè proprio una robina robina così molto sexy vedete tipo vestaglietta così con le coppe qua cioè coppe mosce quindi quello che c'è se vede cioè niente e con le con le cosine così insomma molto carino peraltro questi li uso d'estate quando c'è caldo tipo a modi camicia da notte per la gioia del mio fidanzato va bene basta ho fatto vedere già troppo non esageriamo poi fine della fiera cosa vi faccio vedere due cose che ho preso da NYX cioè ragazzi io sto diventando tipo una santa col make up più o meno rispetto a quello che facevo prima e volevo un qualcosa di NYX per le labbra che non avevo ancora granché provato e ho provato volevo provare un liquid suede e le volevo prendere tipo già 5-6 colori poi ho detto Silvia guarda se ti piacciono mi piacciono finita li comprerò tutti perché l'ho provato nella figata che si chiama Cherry Skies Rouge Cerise se lo diciamo en français ed è una figata è veramente l'effetto velluto sulle labbra si stampa un pochino ma si mattifica moltissimo e resiste tanto 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 è un colore bellissimo ma ne ho già visto altri tipo almeno 3 che mi piacciono altrettanto e li voglio allora questo rosso ciliegia il rosso ciliegia è il mio rosso preferito come gamma di colore sapete che anche il rosso ciliegia numero 16 di Wicom è il mio preferito di rosso ma guardate quanto è bello questo veramente meraviglioso ragazzi è bello 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 e quindi me lo sono comprata altra cosa che ho voluto provare è che vi segnalo se non lo sapevate adesso sappiatelo allora mi piaceva come idea la palette quella del contouring appunto di NYX però avevo sentito dire no è polverosa effettivamente l'ho provacchiata un po' lì l'ho spucciacchiata ed è polverosa però avevo visto la cialda quella gialla che dovrebbe servire appunto da mettere per settare diciamo il contorno occhi che mi sembrava veramente molto scrivente la polvere e molto già molto gialla gialla in quel modo giusto che illuminasse bene però ho detto no caspita io ho tutta la palette non la voglio diciamo contouring ne faccio poco e ho già un bel po' di prodotti 3-4 prodotti li ho e per me sono più che sufficienti perché non è che io sia una maga del contouring e quindi volevo la cialda singola ma mi avevano detto no guarda non c'è in via passare in centro dove aveva aperto il primo NYX a Milano in via passare a largo passarella a corso passarella non me lo ricordo mai galleria galleria passarella e quindi non avevo preso tutta la palette per una sola cialda poi ripeto avevano detto spolvera non mi ricordo chi ne aveva fatto una recensione Giulia aveva fatto una recensione negativa quindi non l'ho presa per farla breve ho trovato la cialda singola perché a quanto pare adesso fanno le cialde singole qua devo dire che sembra ecco così sì è questo giallino che vedete qua in questo momento è molto molto scrivente guardate vedete il mio dito come io ho appena passato la cialda il colore è proprio bello giallo ma ovviamente una volta che lo metto sulla mano non è che si veda vedete sì lo vedete ma ok eccola e io lo sto usando per settare il contorno con la spugnetta anche se è una polvere pressata quindi si dovrebbe fare il gioco della spugnetta il baking con la spugnetta quando si usa una polvere libera però ci sto provando lo stesso la sfreggo bene la spugnetta e poi vado qua poi dopo con un pennello tipo che so con ecco sto usando il 224 di sigma che dovrebbe essere uguale al 224 di mac vado sotto e faccio così e quindi diciamo porto via l'eccesso da sotto gli occhi e ragazze a me piace non mi dispiace è vero che è abbastanza polverosa ma ha un effetto che non mi dispiace affatto e basta ragazze detto questo ho chiuso questa haul mix vi lascio qui l'ultimo mio video prodotti finiti per chi mi guarda dal cellulare magari apre la scheda chi mi guarda dal pc può anche in questo riquadro che metto qua aprire appunto cliccare andare direttamente al video è un video sui prodotti finiti quindi un po' tutte le cose che penso un po' di recensioni le faccio appunto quando finisco i prodotti che mi sembrano anche un po' più ponderati oculate ragionate ovviamente vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao